Ecco qui. Vediamo un attimo. Vedete il cuore in tutte le cose. Lo vediamo negli oggetti. Oggetti più incredibili nelle nuvole. L'amore, lo vediamo nelle rocce. Le rocce. Negli anfratti. Si vede in tante cose anche banali. Ma il cuore sempre ha un'origine naturale. Come tutte le belle cose. Grazie. Grazie.